Musica L'informazione delle 7.30 comincia su Fano TV tutte le mattine dal lunedì al sabato alle 7.30 in diretta. Un cordiale saluto a tutti voi cari telespettatori. Partiamo come di consueto dal santo del giorno e poi le previsioni del tempo e i giornali. Oggi è Santa Polinare, Vescovo. Il sole è sorto alle 5.44 e tramonterà alle 20.45. Per quanto riguarda il tempo, oggi cari amici telespettatori non c'è molto da dire, se non che le temperature sono ancora in lieve aumento. Abbiamo ancora un po' di vento che soffierà soprattutto teso durante le ore centrali. Il mare sarà quasi calmo al mattino, poi il pomeriggio tornerà un po' ad agitarsi. Ma niente di che, così come venerdì, venerdì aumenta soltanto un po' la nuvolosità, continuerà a tirare un po' di vento teso, c'è qualche precipitazione in ulcerato temporale, ma soltanto nel sud delle Marche e limitatamente all'Appennino meridionale. Per sabato, quindi, ancora venti tesi, temperature in aumento, il cielo sarà poco nuvoloso. Attenzione al vento forte, soprattutto sul Monte Feltro. Tempo stabile fino a martedì, poi martedì arriverà qualche temporale pomeridiano. Allora, partiamo dai giornali, dal resto del Carlino, in primo piano la notizia con la fotografia a tutta pagina di una coppietta, una coppia, o forse più di una, che anche durante il giorno, secondo quanto dichiarato da una donna che poi ha presentato denuncia, una coppia si è appartata in questo giardino, in questo parco, al parco della Pace di Pesero, per fare del sesso anche davanti ai bambini, dice lei. Insomma, è un po' il caldo di questi giorni che non riesce a tenere a bada gli ormoni. Corruzione per la ricostruzione, invece, un'inchiesta della Procura dell'Aquila post terremoto, su due varianti, corruzione per la costruzione, imprenditore agli arresti, domiciliari, si tratta di Mauro Lancia, che da ieri mattina, appunto, è ai domiciliari, insieme ad altri nove indagati, accusato anche di falso. La difesa dice, invece, si tratta di lavori effettivamente eseguiti. Guardate, invece, il rifugio Corsini sul Monte Nerone, questa immagine della webcam distrutto dalle fiamme, c'è stato un violento incendio, lo vedremo tra poco, ieri, intorno alle 19. Poi Malagò, il presidente del CONI, che è sicuro, i mondiali di ritmica a Pesaro, saranno un evento unico, ed è stato presentato ieri. Morì con il suo feto, la cronaca sulla pagina 12 di Fano del resto del Carlino. Fu colpa di un virus, la tragedia di Carmen, le indagini per il decesso della 24enne di Mondavio, c'è 12 persone indagate, secondo la perizia la mamma aveva contratto la quinta malattia. Dubbi, invece, sull'epidurale. La giovane era al nono mese di gravidanza, quando perse il figlio che aveva in grembo. E, lo ricordiamo, morì anche lei. La pagina di Fano Piccoli, Giovanni Piccoli, fu accusato per vendetta. Il riferimento al pesce azzurro, il rogo al pesce azzurro, sono state depositate le motivazioni della sentenza. Per il giudice tutto sarebbe nato da triti con un ex dipendente. E sulle intercettazioni non è stato dato valore ai colloqui che l'ex socio del Carmine, in cui si parlava di frodi assicurative. Sul fatto, sul rogo del pesce azzurro avvenuto nel 2010, lo ricordiamo, nel giugno del 2010 fu bruciato, fu dato alle fiamme, andrò completamente distrutto. Nel 2014 la procura chiuse le indagini, individuando in Piccoli il mandante per motivi legati alla concorrenza. Poi invece arrivò la sentenza, a giugno il giudice ha assolto Piccoli e condannato, questo giugno, ha condannato gli altri sei imputati, ritenute inattendibili le parole del principale accusatore di Piccoli, che appunto è un ex dipendente. Questa è la pagina di Fano del resto del Calino. Andiamo avanti, da Fossombrone invece, Rems verso la sospensione dei lavori, l'ufficio urbanistica ha avviato la procedura per bloccare tutto, l'annuncio è stato dato dal Comitato a difesa dei diritti. La battaglia continua, dicono loro, vigileremo su tutti gli atti dell'amministrazione guidata dal grillino Bonci. Amarotta invece, perché sull'outlet il sindaco tace, il Partito Democratico incalza il sindaco Barbieri, resistenza in giunta, ma così si rischia di perdere tutto. Troppi indugi, Lucchetti e Silvestrini, la maggioranza smetta di fare melina. Da Urbino invece, basta multe alla gente, la raccolta non funziona, la raccolta dei rifiuti, accuse, famiglie costrette a caricare i rifiuti in auto, la denuncia di Francesca Crispini, leader di CUT Liberi Tutti, che critica la raccolta differenziata. Perché pagare le tasse se il servizio ha tante lacune? Buoni spesa come incentivo. Dalla pagina invece del Corriere Adriatico, la prima pagina è per le tangenti post terremoto, arrestato Mauro Lancia, dall'Aquila Nuova Inchiesta e domiciliare anche il noto imprenditore. Mentre sesso di giorno al Parco della Pace di Pesaro, coppia pizzicata da un passante, hanno continuato come se nulla fosse, amplesso a pochi metri dalla piscina di via Berti. La pagina di Fano invece, Metauro in crisi, i prelievi saranno ridotti del 50% fino a settembre. Misura straordinaria, c'è il decreto regionale, l'esperto dice è ridotto, affogna il Metauro. Il fiume Metauro è ridotto, affogna cielo aperto, sanzioni da 3.000 a 30.000 euro e nei casi di particolare tenuità da 300 a 1.500 euro. Sull'area invece, ex Agip, in viale Gramscia, Fano bonifica dimenticata, Udc e progetto Fano all'attacco per abbattere i tempi sul destino del piazzale che è recintato da mesi e sapete insomma in che posizione è, una posizione dove passano migliaia di auto, molto visibile, un brutto biglietto da visita. Sanità a rischio, posti di lavoro, da seri solo azioni dimostrative, nel mirino di Baldelli, Polligioni e Conter, anche la sicurezza legata alla presenza di immigrati. La tensione si rigonfia e siamo a parlare della tensione che c'è tra gli abitanti del quartiere fanese della Trave e la società Virtus che vorrebbe realizzare in quella zona una tenso struttura, non una tenso struttura, una struttura adesso in legno, prima era presso statica, prima c'era il pallone che poi ha distrutto il vento alcuni mesi fa. Ebbene, la tensione si rigonfia, voi non dettate legge, sul pallone presso statico la Virtus replica i 107 residenti del Poderino. Sotto invece Jump, 450 bambini, nell'impianto Falcone-Borsellino. Dalla Valle del Cesano, guardate come erano e come sono oggi le Cesane, la stessa zona dell'incendio, del grosso incendio, prima e dopo, la devastazione lasciata dalle fiamme, le Cesane visibili nella foto che pubblica oggi il giornale. Prima e dopo l'inferno, spento il max-incendio che ha ridotto in cenere 200 ettari di bosco, l'aria è ancora irrespirabile, uno scenario spettrale, sconvolgenti le foto a confronto della macchia che è andata completamente distrutta, bruciata, la protezione civile sul posto per scongiurare nuovi focolai. E davvero, basta guardare queste due fotografie per capire la forza distruttrice delle fiamme, quello che resterà lì ancora per anni e anni e anni. Ambera, dalla pagina di Urbino del Corriere Adriatico, è estranea al delitto. A breve l'interrogatorio della giovane iscritta nel registro degli indagati, l'avvocato Chiarini dice se è colpevole, toccherà alla procura dimostrarlo. A fuoco il rifugio Corsini, ecco le immagini delle fiamme sul Monte Nerone, la struttura è stata devastata da un violento incendio, c'erano dei lavori in corso, tutto è iniziato intorno alle 19, il rifugio Corsini che soltanto qualche anno fa era stato risistemato dai proprietari, i proprietari di questa struttura sono le sciovie del Nerone. Dentro per fortuna non c'era nessuno, durante la giornata invece, secondo le prime ricostruzioni, scrive il Corriere Adriatico, c'erano degli operai al lavoro. Cambio al vertice della Guardia di Finanza di Pesaro, Raimondo saluta Rizzo, è il nuovo comandante, passaggio di consegna al vertice delle fiamme gialle a Pesaro. Defeo riscopre Rossini, doppia serata con le pizze del Cigno. Andiamo invece adesso sulla pagina di Pergola, perché a Pergola sta per partire la festa del vino, prima si corre e poi c'è la cantina, al Via Domani la 47esima edizione organizzata dalla Proloco nel centro storico. Da Senigallia invece insegue picchi a un anziano sul lungomare di Cesanella, un disabile suona il clacson al figlio di un politico romano, l'auto è stata speronata e presa a pugni. Dunque follia sul lungomare Mameli di Senigallia, ieri pomeriggio dove un 47enne romano ha inseguito e aggredito un anziano disabile, colpevole solo di aver suonato il clacson. Tutto è successo intorno alle 4 del pomeriggio, il 47enne, figlio di un noto politico romano, stava uscendo in retromarcia da un passo privato con la sua Mercedes e poi appunto è successo il fattaccio. Picchia una ragazza, ma non era uno stalker, correte, c'è un uomo che sta trascinando una donna sulla spiaggia, l'ha chiamata shock di una turista al 112 e poi la testimone che ha osservato questa scena dal balcone dell'albergo sul lungomare Italia a Marzocca. I carabinieri sono subito intervenuti e hanno infermato un ganese di 40 anni, residente a Loreto. Andiamo sull'altra pagina del Corriere Adriatico da Pesaro. al San Salvatore, all'ospedale Nuova Palazzina che vale 5 milioni. È stato inaugurato il riqualificato complesso ospedaliero. Miglioriamo il rapporto tra medico e paziente. Dopo 11 anni a ostacoli, oggi il padiglione I è destinato ad accogliere ambulatori e servizi. Nella foto un momento di questa inaugurazione, il taglio del nastro. Rocca Costanza scende a 400, siamo sempre a Pesaro, 480 spettatori. L'uscita di sicurezza è troppo piccola. Domani sopra luogo per ratificare il taglio dei posti e non compromettere gli eventi previsti. Poi, naturalmente, partiranno i lavori per il prossimo anno e quindi per cercare di sistemare e di mettere a posto un po' le cose. Ok, mi pare che ci siamo. Abbiamo raccontato un po' tutto, tutte quelle che sono le notizie in programma e che erano sul nostro touchscreen. Questo è il 338 49 68 250. Se volete potete inviarci foto e video. Anzi, ringrazio tutti coloro che anche ieri sera sul Tardi ci hanno continuato a inviare le fotografie, per esempio, da Rifugio Corsini, così come ringrazio i reporter di strada che in tantissimi ogni giorno continuano ad iscriversi e a collaborare con la nostra redazione postando informazioni utili per la collettività. Reporter di strada, la pagina la trovate, il gruppo su Facebook. Grazie per averci seguito, ci vediamo stasera con Occhio alla Notizia. Arrivederci. Grazie per averci seguito, ci vediamo stasera